Ci colleghiamo intanto con la località segreta da cui trasmette Cinzia Poli e poi torniamo in diretta Qua da Milano e da Roma Buongiorno, ho per voi le News for Dummies, notizie per uomini duri Umberto Bossi si è ricostruito un nuovo cerchio magico, specificare che è in Lega Per il vicepremier Alfano la seconda rata del Limo non si pagherà Spiegare che dice così perché è una tassa che non esiste più Il nuovo sindaco di New York, Bill de Blasio, è mezzo italiano, sua moglie è bis ex e il figlio afro Chiarire che la figlia non è adottiva Sì, grazie a regia, ecco il momento della grafica 3D Eccoci, per Berlusconi, no L'opinione pubblica si interroga sullo scandalo delle tessere del PD Spiegare che non è possibile che alcune siano vere News for Dummies, notizie con l'aiutino A voi la linea Grazie Poli, allora torniamo in diretta qua negli studi di Milano È apparso anche il giugno Grazie a tutti Grazie a tutti